Di Letta Leotta, primo compleanno da mamma e primo compleanno della piccola aria, le dediche social Di Letta Leotta nella giornata del 16 agosto ha compiuto 33 anni, mentre la sua bambina ha festeggiato il suo primo compleanno Solo lo scorso anno la nota giornalista sportiva nel giorno del suo compleanno dava alla luce aria Prima del matrimonio, la giornalista e il calciatore hanno deciso di allargare la famiglia e in breve tempo l'amore è esploso portando nuovi colori e nuova luce nella loro vita Di Letta lo scorso maggio ha sposato Loris Karius e da quel momento si sono goduti la luna di miele e successivamente le vacanze estive in giro per il mondo Le dediche social, auguri amore mio, ha scritto la conduttrice e giornalista rivolgendosi alla sua bambina che ha compiuto un anno Inoltre Di Letta ha celebrato questo giorno speciale condividendo un reel Instagram con i momenti più belli della sua famiglia riunita, dalla nascita della piccola al primo compleanno La Letta ha aggiunto Sei il regalo più bello che la vita potesse donarmi Auguri a noi amore mio Anche papà Loris ha avuto un pensiero per le sue due donne della casa Con un post social ha scritto Che bella giornata, festeggiando il primo compleanno della mia piccola principessa Aria e anche il compleanno della mia bellissima moglie Papà vi ama tantissimo L'amore dunque in casa Karius e Leotta non manca ed infatti il calciatore e la giornalista spesso in questa estate si stanno allenando insieme e sono sempre più in sintonia Grazie a tutti Grazie a tutti